L'elicottero è sicuramente 110 perché vedo il fumo. Ok perfetto perfetto ottimo buon lavoro ottimo lavoro va bene allora andiamo innanzitutto ci muoviamo verso sud e altro boschetto e poi attraversiamo la strada in quel punto e vediamo cosa c'è se sono già lì o meno dopodiché ci posizioniamo e poi preattiviamo il gps ok ok toscano ci sei? Io toscano ok allora voi andate verso nord cercate di trovare un buon punto alto per vedere l'elicottero da nord o anche no anzi facciamo prendiamo dopo posizione ok? ok 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 aspetta che ritrovo Toscano eh guarda accendo la luce ti vedo ok ok noi siamo ci siamo squadra gialla pronta Siamo qua vicino a Solax va bene va bene seguirete lui eh Ira dai andiamo Solax ritorna qui ok ok Vai Ira Occhi aperti eh Ira vediamo Fai piano Non è sicura la zona Sao Dove vai vieni qua Segue il porto del bosco Ira Grazie 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 ancora lì sotto l'albero non li vedo più no, 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 no noi abbiamo in vista l'elicottero da qui siamo le prelevati abbiamo in vista l'elicottero teniamo pronti l'ucile e lancia granate copiato, copiato occhio che si avvicinano strisciando loro il primo che si avvicinano all'elicottero lo one shotate quanto siete distanti all'elicottero? 200 metri 150-200 metri va bene mira comincia ad avvicinarti piano piano dietro i loro sta lì 100 metri distante fai staffetta sugli alberi quelli bassi vai vai però non strisciare io non li vedo sono a 110 direzione est 100 gradi più o meno anzi Ira Ira fai una cosa vai verso 160 gradi con con il tuo uomo e poi dirigetevi verso l'elicottero ok? li prenderete da dietro saul nemesi con me dove siete? sono qua sono qui dove sei? dove vai? hai copiato Ira? si ho copiato e venite presto non posso usarli ma dove? non ho visto solo delle onde eh trovo una buona posizione per vederle tu dovresti avere un lancia granata quindi utilizza anche quello avvisami se vedi contatti all'elicottero solax ricevuti da qua visuale proprio perfetto sull'elicottero non vedo solamente il lato a est non lo vedo vedo solo il resto va bene non li vedo li vedo io seguitemi toscano stai lì guarda quella zona lì e copri anche se ogni tanto non uscite dagli alberi sono il nemesi sei sceso? dici sono avanzato un po' più avanti qua mi si apre il campo non ho altri alberi dovete seguire il bordo del bosco ragazzi lo vedi il contatto a 120 saul che striscia? vedo qualcosa vedo qualcosa ma non so se non c'è spuglia ranger stop 120 in metà altezza no non lo vedo più anch'io neanch'io aspetta aspetta ragazzi ragazzi noi copriamo l'elicottero strettamente quello però perché poi dopo scaglia non ci fa dire il resto toscano c'è tiro sull'elicottero sulle vicinanze aspetta lì so non mi muovo se sai dove sono beato te affermativa sola ho visuale sull'elicottero ok io sono 50 ma ne hanno 30 metri a rotta sinistra ah comunque siamo a 100 metri dell'elicottero neanche 100 ci siamo spostati da vicini per avere abbiamo visore ottimale così però che lato riesci a vedere dell'elicottero? riesco a vedere tutti tranne su destra bene o male riesci a vedere se scappano assolutamente loro per scappare devono andare verso tutto verso nord io sono proprio al nord dell'elicottero nord nord ovest però tipo fai 350 quindi riesco a vederli bene se scappano rencar rimane in posizione ma voi l'avete visto tutti i 5 i contatti o solo alcuni? nessuno al momento non so io io ne vedo uno non so rencar quanto è distante è a te? uno venti metri l'altro cento quello che è distante venti metri potete farlo fuori però aspettate aspettate è l'unico uno solo vicino a voi? forse ci guardano sparategli poi andate via fate il giro largo e vi rimettete in posizione a loro sud-est ha qualche occhio il fuoco amico che noi siamo nord ovest quindi per quelli che vengono sud-est occhio solo vedi il bersaglio che corre si è fermativo uccidilo non so mi accanto mi accanto io andate via andate via Saul ritirati ritirati fai il giro largo con Nemesis ritirata verso ovest anche te e io giuro non c'è nessuno lì sono la vai all'estrazione con il nemico sono nel toscano strada toscano vieni do copertura sulla zona sono ah ok ok noi siamo sulla strada praticamente occhio fuoco amico adesso ci muoviamo verso l'estrazione vieni toscano ira ti ho perso Nemesis dove sei? sto venendo verso il vostro non lo so mi serve che andiate a girare il nemico da dove l'avete ingaggiato venga esegui anche io ti ho perso siamo solo esegui fuoco amico nemico era il mio era il mio auto io sono sulla strada venga sono la tua destra noi siamo in moto verso nord vedo un nemico strisciare bubble probabilmente probabilmente è stato abbattuto ragazzi bubble tutti verso l'estrazione andiamo tutti verso l'estrazione nemico ovviamente chi è che fa fuoco qua io io controllo controllo tutti i corti per vedere se hanno addosso la scatola nera voi state lì e controllate i cadaveri nemici controllate le trotti controllate le trotti controlla le trotti è stato addosso la scatola nera noi io e tutti andiamo verso verso no quando voi siete sicuri che non avete avuto dei nemici intorno comunque non è stato di non avere controllo cadatteri e se non ce l'hanno venite in caldo verso l'estrazione ricevuto si copiato noi non ti sentiamo mi avvicina un po' la strada rengara è ancora visuale? si è in contatto ho fatto il fuoco ho fatto il fuoco ho fatto il fuoco ho fatto i criminali ho fatto il fuoco di stupire tango down vedo il ruolo dei ruolo dei ruolo dei ruolo dei ruolo dei ruolo dei ruolo quanti t-rengara? penso uno io vedo tre cadaveri e controllateli guardate se c'hanno la statura nera mira vieni qua dove sono io mi copri io controlli cadavere aspetta aspetta fate vedere un attimo soul dove sei? sì ragazzi è poco poco alterato perché mi ci sentiamo io stiamo andando all'estrazione siamo così via mi ricomando potrime per vai mira sono dietro di te li vedi dietro il cadavere negativo non vedo un cazzo soul mi senti? sì ho passato tutti gli alberi vicino alla strada non mi hai sentito non hai visto? no ascolta ringrazia attento o non rischiare stai attentissimo sono a limitare a poveste del boschetto nemese tu hai attraversato la strada no sono sulla strada ok prosegui verso sud-ovest d ringrazio 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 Rengar, sei vivo Sol Hai superato il bosco a tua sinistra, sei oltre Sono sulla strada, sono quasi al paese Ho finito, a posto Non siete tutti Alla prossima